Sono contro il carcere per Sallustri, così come sono contro anche la libera diffamazione e quindi è evidente che dobbiamo trovare degli strumenti alternativi. Segnalo che in Senato già c'è un disegno di legge che non ha potuto vedere l'approvazione anche per l'ostilità del PDL che prevedeva la costituzione di un giurì a cui affidare i casi in cui ci fossero delle azioni diffamatorie a carico della stampa. E questo è un modo alternativo al carcere, però la legge che è in vigore non è stata cambiata e la Corte di Cassazione ha applicato, forse in maniera eccessivamente rigida, una regola che c'è. Aggiungo che nei mesi trascorsi si pretendeva di applicare norme, diciamo, sanzioni di carcere nei confronti dei giornalisti che pubblicassero intercettazioni. Quindi non è che si può usare una mano o l'altra, né si può consentire ai giornali e neppure le testate televisive, di fare campagne diffamatorie. Ho ancora presente la ignobile campagna diffamatoria fatta dal giornale nei confronti di Boffo, direttore dell'Avvenire.